Il Parco Miralfiore torna alla cronaca per un episodio risalente a circa un anno fa, arrivato ora alle battute finali. Il fatto increscioso risale lo scorso 11 settembre con lo scontro tra due gang di nigeriani avvenuto a seguito della supremazia per spaccio, contesa per il polmone verde di Pesaro. Per questo motivo gli individui coinvolti, una dozzina tutti di età coinpresa tra i 25 e 35 anni, hanno aggredito due connazionali. Una spedizione punitiva che ha visto il branco armato di bastoni e bottiglie a cerchiare i due rivali seduti in quel momento su una panchina vicina all'area giochi per bambini. La preda però è solamente una. Le salgono sopra e la spostano di forza in un punto più imboscato, mentre altri del gruppo tenevano fermo con forza l'amico della vittima. Le telecamere di videosorveglianza del parco hanno ripreso l'aggressione, che è poi proseguita prendendo una macabra piega. Uno dei 12 individui, brandendo un macete da 32 cm con una lama da 19, ha posto fine all'assalto compiendo il gesto premeditato. Tenendo in pugno la mannaia, uno del gruppo ha mutilato buona parte del dito mignolo del piede del rivale, portando a termine la vendetta studiata. Il branco si è poi repentinamente dileguato e da lì i due presi di mira si sono diretti malmessi al pronto soccorso. Dopo aver ricevuto il referto di 40 giorni di prognosi, il soggetto ha poi esporto denuncia. Dei 12 indagati, 7 sono stati identificati, i quali però non è ancora chiaro se chiederanno o meno di essere ascoltati davanti al giudice.